Ciao ragazzi, un abbraccio a Dele, un abbraccio a Marcello, sono qui domenica mattina post Cagliari-Juve. Che dire, una nottata o una serata dedicata alle solite polemiche, alla Rubentus, agli arbitri venduti, al campionato falsato, ai commenti sui social tutti contro la Juve e contro l'arbitraccio scandaloso. Diciamo che per onore di cronaca gli episodi ci sono stati, posso dire che il rigore su Di Bernardeschi può esserci e quindi le recriminazioni di un Cagliari arrabbiato ci possono essere tutte. La cosa che non comprendo è perché a distanza di pochi giorni noi dobbiamo essere messi sulla gogna come i giuventini e gli episodi a favore di Roma, Napoli e Inter in precedenza sono sempre passati in cavalleria. Questo dimostra come il problema non è il nostro degli giuventini, ma il problema è di chi è anti-juventino. Che fino a quando la Varra ha funzionato a favore degli altri e contro la Juventus, la Juventus era uno strumento favoloso, eccezionale, risolutore di tutti i problemi, oggi invece fa parte del progetto Juve di rubare anche questo scudetto e di essere superiori in tutto. Strano che non hanno nominato ancora Moji Giraudo e compagnia Bella Pairetto, stranissimo, veramente stranissimo. I due pesi e le due misure che si utilizzano nell'informazione sono veramente scandalosi e quello è lo scandalo. Perché far passare come se nulla fosse l'episodio di Martens con il crotone, con le stesse domande di Zenga, spiegatemi la Varra, indicati ieri sera dal presidente Giulini, che, tra parentesi dico, se mi fossi trovato nella sua situazione avrei detto anch'io le stesse cose. Ma come mai che quel richiamo da parte di Zenga non ha avuto nessuna eco sui giornali? Invece quello di ieri sera di Giulini è diventato come il grido di dolore più profondo della sportività in Italia. Quello che mi fa rabbia. Non commento la partita, dico solo una partita durissima, lo sapevo, lo percepivo prima che iniziasse, perché, come sempre, il Cagliari, la Sampdoria, il Verona, tutti quanti giocano alla morte. Stranamente poi, però, crollano inerosabilmente, vabbè, non mi esce, non fa niente, l'avete capito. Avete capito anche che sono molto arrabbiato, perché questa mattina appena esci di casa ti aggrediscono come se fossi un terrorista, ma non me ne frega niente, sono contento di quello che è successo ieri, abbiamo vinto, meritatamente anche. Anche se Allegri dice che il pareggio era giusto, sì, se si sommano le occasioni forse ci siamo. Ma la Juve ha vinto perché è una squadra che ha esperienza. Ha dimostrato che, uscendo di bala, entra Douglas Costa che cambia la partita. Quindi vorrei dire a tutti coloro che sono in televisione, Caressa, Ziliani, Barriale, Auriemma, Zazzaroni, tutta questa gente che ancora pensa di esultare alle sconfitte della Juve e sfregarsi le mani nel momento in cui il Napoli è primo in classifica, ve lo dico da oggi, la disparità di forze tra Juventus e Napoli è talmente elevata che anche se voi sognate, i vostri sogni non si realizzeranno mai o si realizzeranno parzialmente. Perché la Juve dimostra che, uscendo un fuori classe, ne entra un altro, la partita cambia. Quello che non succede ad altre squadre, se non con l'aiutino, come è già successo. Oggi l'aiutino forse l'abbiamo preso noi, ma ne siamo contenti perché a distanza di tempo, dopo tante fregature e tanti episodi contrari, abbiamo raccolto quello che ci hanno tolto prima. Quindi non ci deve essere scandalo. La VAR, come disse e ha ribadito ieri sera Allegri, dopo Atalanta-Juventus, se era il mezzo per togliere discussioni, secondo me è stato un plus che continuerà a contribuire a far discutere gli anti-juventini, a dire male della Juve, a dire sempre che noi rubiamo e non meritiamo mai. Quindi forse i signori che hanno inventato la VAR, adesso devono inventarsi un altro strumento per combattere la VAR. Vediamo se ci riescono. Un abbraccio a tutti, forza Juve sempre!